Stare insieme è importante, per la nostra crescita e per lo sviluppo delle nostre competenze. Anche noi adolescenti abbiamo pagato e pagheremo gli effetti di questa pandemia. Ma siamo pronti a ripartire, con responsabilità e coraggio. La programmazione politica per la ripresa del paese non può non considerare le nostre voci. La Next Generation siamo noi. Ascoltateci.